Buonasera, io sono Giulio Cesare Giacobbe, famoso autore di come smettere di farsi le sega mentale, come diventare bella, ricca e stronza e come diventare un Buddha, perché ho scoperto, dopo anni di studio sul buddismo, che tutto quello che noi conosciamo con il nome di buddismo non ha niente a che fare con l'insegnamento del Buddha, d'altra parte è successo anche a Gesù, non è che… e ho scoperto che effettivamente seguendo l'insegnamento di Siddhartha, Gautama Sakiamuni, detto il Buddha, si può diventare un Buddha, diventare un Buddha non è una cosa eccezionale, diventare un Buddha significa semplicemente arrivare a essere sereni in qualunque situazione, dici poco, non è male, sereni, felici, allegri e gioiosi, vivere come San Francesco con gioia e amore, questo significa essere un Buddha e non è una cosa impossibile, perché il Buddha ha creato un metodo, un metodo scientifico, veramente scientifico, io sono rimasto sbalordito quando l'ho scoperto, perché è stato perduto, è stato dimenticato, stasera l'argomento è lo yoga, anche lì io dopo anni di studio ho fatto una scoperta, e cioè che la Bibbia dello yoga, che è lo yoga sutra di Patanjali, che è stato sempre tradotto, interpretato come un'opera di metafisica, che quindi, sapete la metafisica è quella cosa che parla delle cose che non si vedono, il trattato sul sesso degli angeli è metafisica, non ci sono nemmeno gli angeli, pensate il sesso, e invece non è un'opera metafisica, io l'ho studiata nella lezione originale in sanscrito insieme a un mio collega, un sanscritista, che insegnava con me all'Università di Genova, e abbiamo scoperto che non è niente di metafisica, è un'opera molto concreta, anzi scientifica, che descrive la tecnica psicofisica attraverso la quale raggiungere uno stato di esperienza eccezionale, e adesso poi ne parliamo. D'altra parte che lo yoga fosse una pratica psicofisica, voglio dire, è chiaro abbastanza a tutti, no? Quindi come mai è stato interpretato come un'opera di metafisica, cioè un'opera di filosofia astratta? Dunque la storia è lunga, è molto interessante, noi oggi conosciamo lo yoga come una sorta di ginnastica, praticamente una serie di esercizi di stretching, che tra l'altro fanno molto bene, stretching è fantastico, ci tiene, allunga i muscoli, tiene le articolazioni belle aperte, è una buona ginnastica. Se fosse soltanto così, voglio dire, non avrebbe una grande valenza, no? Però questa ginnastica è accompagnata, guardate io li ho fatti tutti gli ashram, io sono stato anche un allievo di Gitananda, che è quello che rilasciava i certificati di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di yoga in giro per il mondo, per cui non è che io venga accompagnata da una una sorta di non meglio identificata mistica, qualcosa fra la filosofia e la religione, che si rifà un po' a quella che si chiama naturistica, cioè l'assunzione della natura come una sorta di entità sovra personale che presiede alla vita di tutti gli esseri viventi del pianeta, quasi una divinizzazione della natura, ma questa è una cosa che la troviamo anche persino presso i peli rossi, voglio dire, dappertutto. Ma lì c'è questa sorta di per cui se voi andate in una palestra di yoga dove c'è un maestro un po' più illuminato, un po' più acculturato degli altri, non vi fa fare soltanto ginnastica, ma vi dà anche tutta una serie di indicazioni per mettersi in contatto con la natura, un'igiene non soltanto fisica, ma anche mentale. Il problema è che tutto questo non è canonizzato, non ha un protocollo preciso a cui riferirsi. Ognuno ci mette qualcosa di suo, è una materia molto vaga, dove comunque in generale c'è questo atteggiamento di tentativo di unione, di contatto, non solo con la natura ma addirittura con l'intero universo e con l'intero esistente. E questo è molto bello, molto bello, tant'è che la parola yoga, da cui deriva la nostra parola gioco, sapete cos'è il gioco? Il gioco è quello strumento che tiene uniti due buoi che devono tirare il carro. E yoga significa proprio questo, unione. Ma unione con che? Unione con l'universo. Con l'universo. Noi siamo delle gocce immerse nell'oceano, che durante la nostra esistenza veniamo scagliate al di sopra della schiuma che si forma nel frangere dell'onda contro la roccia e noi goccia librata nell'aria, diciamo ma io esisto come individuo, come goccia, prendiamo questa consapevolezza. Ma questa consapevolezza ci porta alla pazzia perché diciamo a noi stessi, io esisto come individuo ma oddio, sono solo. solo e destinato a morire. la tragedia, lo ricordate di Andrè? Quando si muore, si muore soli. È terribile, è vero. ma questa è pazzia. È pazzia. Perché da dove viene questa goccia librata nell'aria? non è che sia nata lì. No, viene dall'oceano. E dove ritorna questa goccia? Nell'oceano. In realtà questa goccia appartiene all'oceano. In realtà ciò che esiste è l'oceano, non la goccia. E così ciò che esiste è l'universo. Noi siamo particelle dell'universo. La nostra angoscia, questa angoscia ha dato luogo addirittura ad un movimento che è stato filosofico, letterario, psicologico, l'esistenzialismo, che ha portato addirittura a dei suicidi, l'angoscia dell'esistenza come individui solitari nell'universo. Ma questa è pazzia. Se noi, anzi, se voi faceste quello che io faccio tutte le mattine ormai da 40 anni, cioè tutte le mattine alzandoci, vi sedete, con le gambe incrociate perché questo è ierattico, è un rituale che induce alla nostra mente un'atmosfera sacra, mettete così ed entrate in contatto, in comunione con l'universo. Chiedete all'universo di infondere su di voi la sua armonia e voi restituite all'universo il vostro amore. Due minuti. Basta questo per mettervi in una vibrazione positiva e armonica per tutta la giornata. Ed è, vi parlo come psicoterapeuta, ed è una bellissima prevenzione alla depressione, all'angoscia da solitudine, da depressione, da isolamento. In realtà, questa sorta di non meglio identificata mistica, filosofica, religiosa, che ancora accompagna lo yoga, ahimè ridotto a stretching, deriva storicamente da quello che lo yoga era in origine e che è stato completamente dimenticato anche perché lo yoga sutra, che lo descrive bene, è stato completamente attraversato. Nel mio libro invece viene descritto come effettivamente nella sua versione originale. Lo yoga originale era proprio questo, un metodo scientifico che che permetteva di raggiungere una condizione di contatto e di comunione con l'universo, yoga appunto. ma questo contatto, questo contatto, questa comunione, questo yoga con l'universo, non era un fatto puramente mentale, come quello che invece vi ho suggerito io alla mattina. Vi mettete lì, vi mettete in contatto, mentalmente in contatto con l'universo e va bene. No, è molto di più. È addirittura un'esperienza sensoriale, sensoriale, emotiva, totale. Perché? Perché viene acquisita in uno stato di trance. il termine trance. Il termine trance indica uno stato eccezionale, uno stato di coscienza eccezionale, quindi non comune, in cui io sono, non sono più in contatto col mondo che mi circonda, ma sono in contatto con un'esperienza interiore. L'estasi mistica è uno stato di trance. la perdita di coscienza che si ottiene con l'orgasmo sessuale, che pochi ormai sono in grado di realizzare, perché ormai noi siamo tutti nevrotici, scoppiamo pensando alla multa che viene presa dall'altra parte. Ma in natura l'orgasmo sessuale è uno stato di trance. Avete presente il coniglietto? Fa tutto tutto tutto, poi pum, cade svenuto, rimane svenuto, cinque secondi, poi si riprende e ricomincia, lo fa 20-30 volte al giorno. Questo stato di trance è un'esperienza antichissima nella storia umana. Pensate, noi troviamo già nelle grotte dei trogloditi, delle incisioni, in cui viene praticamente descritto questo stato di trance come uno stato in cui si vedono questi omini che salgono verso il cielo e da lì è nata poi anche la religione, questo contatto è stato con l'infinito, con l'universo, con il tutto. Un'esperienza che veniva ottenuta inizialmente con l'uso di droghe. Vedete tutta la storia dei funghi messicani, noi ce lo siamo dimenticati o non ce l'hanno mai detto, ma la religione cristiana nei primi secoli consisteva nella celebrazione di un rito che poi è stato consolidato nella messa, in cui chiusi nelle catacombe, che erano locali grandi come questo o anche meno, ci davano dentro di incenso fino al punto da stordirsi, perché l'incenso è una droga. E andavano in questo stato di stordimento, ma in tutte le religioni, guardate tutte le religioni all'origine, sono tutte pervase dall'uso di droghe. Lo facevano nei misteri orfici in Grecia, lo facevano nei misteri leusini, sempre in Grecia, nelle feste bacchiche usavano il vino. Si stordivano con le droghe anche nel voodoo, dappertutto, voi lo trovate in tutte le religioni, diciamo primitive, per cui andavano in questo stato di trance e in cui entravano in comunione con l'universo. Inizialmente il fenomeno era collettivo, poi è diventato singolo ed era lo sciamano che si incaricava di effettuare questa operazione, per cui poi lo sciamano riversava sulla collettività la sua esperienza e da lì ha preso l'autorità di colui che ci mette in comunicazione col divino, con il trascendente e da lì il suo potere, che è diventato quello delle chiese. Se non che, l'uso di droghe, e parliamo dell'India, attenzione, qua siamo, sapete, gli indi, non dico indiani perché pensiamo subito ai peli rossi, gli indi, cioè gli abitanti della grande valle dell'Indo, che è al centro dell'India, non hanno il senso della storicità, per cui voi non riuscite a trovare che nella letteratura un'indiana indica un riferimento cronologico che ci permetta di temporizzare un'opera o un avvenimento, non c'è nessun riferimento. Per cui la civiltà indica, detta anche degli ari ariana, del tempo dei Veda, che erano i sacerdoti di quei tempi che avevano costruito una religione molto carina, molto carina, perché è una religione panteistica dove c'era proprio l'universo considerato come Dio stesso, come divino incarnato, e noi come parte del suo corpo, quindi è molto interessante, non si sa bene se risalga al 3.000, al 5.000 o addirittura al 10.000 avanti Cristo. Tant'è vero che un medaglione ritrovato a Mohenjo-daro nella valle dell'Indo, in cui si ritrae una persona in seduta di Sida Asana, che è la seduta classica del yoga antico, risale, attraverso la ricerca del carbonio, risale a 8.000 anni prima di Cristo, cioè 10.000 anni fa. Comunque sia, l'uso di droghe, di droghe pesanti, perché da quelle parti è molto diffuso spontaneamente il papavero, e dal papavero voi sapete che si ricava l'oppio, la morfina, una serie di cose, e loro ne facevano evidentemente uso, sistematicamente i sacerdoti vedici, perché andavano poi in trance, e questo gli permetteva di fare esperienze eccezionali, che poi avevano una ricaduta sulla loro comunicazione con la collettività, per cui, ritornando da questa esperienza, cominciavano a parlare di infinito, di eterno, di trascendente, di qualcosa che poi noi abbiamo finito per chiamare spirituale, spirituale è tutto ciò che trascende l'individualità. Se non che, col tempo, si sono accorti che l'uso di droghe era deleterio, perché intanto dava la sua affazione, perché questi qua dovevano drogarsi continuamente, facevano una messa, due o tre mesi al giorno, che avevano detto, questo è troppo. Poi ogni tanto qualcuno seccava, che andava in overdose, e allora si sono messi, dato che non avevano niente da fare, perché sapete, loro di natura non fanno niente, stanno niente, cioè sono contemplativi, mentre noi se ci sediamo lì a non fare niente, ben dopo cinque minuti bisogna che ci alziamo, ci uviamo, perché ci sembra di buttare via, loro invece no, il contrario, a loro gli sembra di buttare via del tempo a fare qualcosa, per cui loro stanno lì, fanno niente, e stanno lì, cioè hanno proprio questa natura contemplativa. E cosa è successo? Che ad un certo punto hanno detto, ma perché non è possibile ottenere le stesse esperienze, la stessa esperienza di trance, senza bisogno di prendere dagli stupefacenti. e pensa che ripensa, prova che riprova, sa qua se parliamo di migliaia di anni, quindi nel tempo ne hanno avuto quanto ne hanno voluto, sono riusciti a trovare un metodo scientifico, scientifico vuol dire che lo fai tu, funziona, lo fa lui, funziona, lo faccio io, funziona, funziona con tutti, attraverso il quale si può raggiungere quello stato di trance che si raggiunge con le sostanze superfacenti. E qui succede una cosa fantastica, lo Yoga Sutra di Patanjali è un resoconto scientifico di tutto ciò che si deve fare per raggiungere questo stato. Forse voi avete altre cose a cui pensare, cose più pratiche, ma vi siete mai chiesti come facciamo noi a parlare dell'infinito? Ma chi mai l'ha visto l'infinito? Noi non abbiamo esperienza dell'infinito. Nessuno ha esperienza dell'infinito, come nessuno ha esperienza dell'eternità, o no? I greci, e parlo dei greci classici del IV-V secolo a.C., quelli della scuola pitagorica, avevano il terrore dell'infinito, perché l'infinito è impensabile, non si può pensare all'infinito, perché se non se ne ha esperienza, in greco è halogos, impensabile. E loro avevano costruito una geometria che è perfettamente logica, perfettamente razionale. Secondo voi? Ci sono più punti nel segmento AB o nel segmento CD? Scusa, ho anche un bambino, il CD è più lungo e ci sono più punti. E infatti i pitagorici avevano costruito una geometria fatta così, cioè dove i segmenti sono formati da un numero finito di punti, più lunghi è il segmento più i punti ci sono dentro, o no? Voglio dire una cosa più naturale, più logica, più razionale di questa. Va bene? Non fa una piega. Se non che Talete pare Pitagora stesso, ma va bene, ma lì le cose sono un po' confuse. Pare Pitagora stesso, si recca in Egitto. Gli egizi erano un po' come i cinesi, cioè non fanno le cose, ti dai una moto, te la smontano tutta, te la rimontano uguale, non sanno come funziona, però te la vendono uguale alla Peugeot. E usano i pezzi di ricambio della Peugeot, non fanno nemmeno ricerca, non facciano niente. Furbissimi. Gli egizi erano uguali, no? Dato che avevano moltissimi proprietari dei territori intorno al Nilo e dato che il Nilo straripava annualmente e quindi non potevano mettere dei confini perché tanto l'acqua li portava via, cosa hanno fatto? avevano degli agrimensori bravissimi, hanno fatto tutti i appezzamenti costituiti di triangoli, due triangoli fanno un quadrato, un rettangolo, vai così, tutto fatto così ed era tutto registrato su pergamena, per cui anche se veniva la piena, quando poi defluiva, ritornavano lì, mettevano i paletti, facevano i calcoli e avevano scoperto che un triangolo rettangolo che avesse un cateto che misurasse tre e l'altro cateto che misurasse quattro aveva l'ipotenusa che misurava cinque non sapevano altro, come i cinesi naturalmente non fate altro che applicare dei multipli se invece di tre è nove cioè per tre volte invece di quattro è dodici funziona sempre uguale ok? per cui loro dividevano tutti in triangoli rettangoli con questa proporzione e avevano sempre la lunghezza dell'ipotenusa e non sapevano altro non sapevano nemmeno perché Pitagora o chi per lui è andato là ci ha ragionato un po' ha detto un momento ma tre per tre fa nove quattro per quattro fa sedici nove più sedici fa venticinque radice quadrata di venticinque è cinque che vuol dire che il quadrato di questo più il quadrato di questo è uguale al quadrato di questo poi hanno detto va vai a vedere che vale anche per triangoli che invece di tre di quattro hanno che so otto e ventidue qual è? hanno scoperto che funziona su tutti cioè hanno generalizzato la scoperta pratica degli egizi e hanno inventato il teorema di Pitagora perché questi signori i pitagorici erano membri di una setta segreta e corrispondevano agli informatici di oggi perché se tu un'azienda con un fatturato di miliardi gli si blocca il programma del magazzino o del coso si ferma chiama l'informatico quello arriva con l'elicottero due minuti tu 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 tocca due tasti non capisci cosa fa tu tu fatto quant'è? due miliardi è il potere il potere il potere della conoscenza il potere della conoscenza chi ha l'informazione vince le guerre e quelli avevano questo potere i pitagorici avevano conoscevano la geometria per costruire i templi i greci usavano la geometria dei pitagorici che ciò chiamavano pitagorico di turno ehi te fammi un po' i calcoli tu 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 quant'è? duemila dracme un sacco di soldi ed era una confraternita segreta come poi è avvenuto per tutto il seguito dei secoli nella nostra cultura durante il medioevo le arti liberali costituivano delle confraternite segrete da cui massoni che erano i costruttori dei cattedrali se non che un bel giorno noi a Genova diciamo un gondone che viene da condom che vuol dire preservativo non so a Milano come dite voi uno stronzo una testa di cazzo ha detto momè 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 se invece di tre io prendo un triangolo rettangolo che ha due cattetti uguali che fanno uno e uno che il chi cosa fa che il chi fa uno al quadrato più uno al quadrato è uguale radice quadrata di x giusto? ma uno al quadrato fa uno ok? uno al quadrato fa uno uguale radice quadrata di due trovatemi un numero che moltiplicato per se stesso sia uguale a due non esiste non esiste cioè non esiste nell'ambito dei numeri conosciuti i numeri conosciuti sono i numeri interi e quelli frazionari ma non esiste nessun numero intero frazionario che moltiplicato per se stesso sia uguale a due perché due due è uguale a uno cioè la radice quadrata di due è uguale a uno seguito da un numero infinito di decimali cioè vi mettete a calcolarlo ci passate la vita e non avete ancora visto la fine quindi ecco che l'infinito che era stato rifiutato dai greci come qualcosa di non pensabile non razionale e quindi non esistente è saltato fuori in aritmetica come qualcosa guardate che questo qua è un bel mistero è un bel mistero pensateci un attimo nessuno di noi ha esperienza dell'infinito ok quindi se noi partiamo del presupposto che ciò di cui non abbiamo esperienza non possiamo affermare l'esistenza per noi è come se non esistesse però se andiamo dentro nei numeri scopriamo che lì c'è bel casino addirittura se vogliamo dirla tutta se noi togliamo dai nostri calcoli matematici questo simbolo che è stato inventato dagli indi che è il simbolo dell'infinito c'è un otto che dorme se noi togliamo questo simbolo dalla nostra matematica non riusciamo a fare alzare nemmeno un 747 dalla pista perché tutta l'aerodinamica lavora al limite e utilizza le funzioni dove c'è dentro il segno di infinito è una cosa pazzesca se ci pensa questo cazzo di infinito nessuno l'ha mai visto eppure ci deve essere bella domanda prima ancora che tra parentesi quello che ha scoperto sta cosa qua si chiamava Ippaso Ippaso narra la leggenda che avendo lui raccontato all'esterno della setta segreta perché finché rimaneva dentro vabbè non lo sapeva nessuno questo figlio di puttana è andato a raccontarlo in giro sputanando completamente la setta che quindi non venivano più chiamati siete sceli testa di cazzo cosa voglio dire l'an infinito narra la leggenda che fosse stato punito dalla setta pitagorica con la peggiore onta che un greco potesse immaginare cioè messo su una nave nave che poi erano barche di 20 metri mandato apposta dentro una tempesta naufragato il suo corpo è stato portato a riva dal mare e lì è stato abbandonato senza sepoltura a essere divorato dagli animali selvatici che morire senza sepoltura per un greco era la massima massima onta che si poteva ricevere perché non andava nemmeno poi dagli dèi ma dato che noi parliamo adesso del quinto secolo dopo avanti cristo dove in realtà lo yoga primitivo quello descritto da patangeli pare che risalga addirittura quantomeno a 2 o 3 mila anni prima di cristo se non prima perché mohenjodaro 8 mila avanti cristo quindi una tradizione antichissima e lì diventa veramente un miracolo cioè prima di questa esperienza che diciamolo subito per capirci è l'esperienza dell'infinito non esisteva nemmeno concetto cioè il punto è da dove è venuto il concetto di infinito tu hai il concetto di infinito lei ha il concetto di infinito senza avere l'esperienza ma ci sarà stato uno stronzo per primo che ha detto che lì c'è l'infinito ma cos'è? eh lo so io cos'è tu non ti preoccupare c'è l'ho visto è andata così cioè prima non c'era nemmeno il concetto di infinito a un certo punto è venuto uno e ha detto io l'ho visto l'infinito c'è come mai l'hai visto? eh perché io ho fatto un'esperienza in cui ho visto l'infinito e questo è lo yoga originale è l'esperienza dell'infinito non solo dell'infinito ma dell'eternità dell'universo un sacco di cose cioè durante le varie fasi del samadhi che è appunto lo stato di trance che però è progressivo e quindi è costruito di tante fasi finché si arriva al Caivaglia che è l'ultimo stadio nel quale io so di esistere ma non so che cazzo sono cioè non so come mi chiamo non so se sono un individuo perdo qualunque sensazione specifica e ho soltanto questa sensazione di esistere basta interessato io l'ho provata in questi giorni ho fatto un principio di bronchite mi veniva una tosse spastica che mi lasciava senza respiro mi girava la testa e mi ritrovavo dicendo che cazzo sono perdevo proprio la il contatto con me stesso stavo pensando e mi trovavo nel nulla nel vuoto assoluto non riuscivo nemmeno a pensare non avevo niente ero lì sapevo di esserci ma non sapevo chi ero cosa facevo questo è lo stato di trans e voglio dire non è che dobbiamo farvi venire la brocchite però sappiate che è un fatto fisico è uno stato clinicamente si descrive così di ipossia cerebrale se voi avete una tosse non riuscite più a prendere il fiato vi manca l'afflusso di sangue al cervello il cervello rimane senza ossigeno per un attimo perché se no ci lasciate rimanete secchi e in quel momento lì perdete tutte le percezioni ecco cos'è lo stato di trans è una perdita progressiva delle percezioni ordinarie fino a raggiungere uno stato in cui non ci sono più percezioni ma soltanto la percezione di esistenza l'arte dello yoga cioè la cosa che fa dello yoga una cosa eccezionale è che loro sono riusciti a fare durare questo stato di sospensione delle percezioni delle percezioni ordinarie quindi di sola percezione di esistenza non si sa quanto ma comunque una certa durata nessuno ha mai nessuno ha mai riuscito a capire quanto potrebbe essere anche un secondo perché l'esperienza soggettiva tu galleggi nell'eternità nell'infinito non sai perde il tempo perché si perde progressivamente prima le sensazioni quante sono le sensazioni brava cinque vista udito tatto gusto e olfatto una prima fase del processo psicofisico che conduce al caivalia è il pratiyahara il pratiyahara significa chiusura delle porte dei sensi quindi io mi metto lì mi concentro sul respiro mi metto in una stanza buia e già chiudendo gli occhi perdo la vista mi concentro sul suono che sto udendo solo quel suono solo quel suono se ne va perdo udito mi concentro sul culo posato a terra a proposito di culo posato a terra noi crediamo che lo yoga consista in posizioni strane uno si mette la testa in mezzo alle gambe si tira vuoi fare così c'entra un cazzo lo yoga come noi lo conosciamo cioè serie di posizioni corporee è il derivato di una versione moderna dell'antico yoga di cui stiamo parlando di quello originale allora descriviamo subito quello moderno così ci togliamo subito qualunque curiosità cos'è successo è successo che come voi avrete sentito dire nel corso dell'ottocento metà settecento e per tutto l'ottocento gli inglesi hanno colonizzato l'india va bene e sono venuti a contatto con questa antica cultura ok e anche con la tradizione yogica la tradizione yogica è sparsa in tutta l'Asia la ritroviamo anche all'interno delle scuole buddiste la troviamo in Giappone in Cina dappertutto perché era proprio una cosa di grande di grande impatto e di grande diffusione questi inglesi però con la loro mentalità scientifica e le loro conoscenze mediche quando sono venuti a contatto con questa tradizione che parlava di stati di esperienze eccezionali eccetera non erano in grado non dico di riprodurli ma nemmeno di capire di cosa si trattasse allora cosa hanno fatto gli inglesi hanno detto ah lo yoga una serie di cazzate non si capisce aspetta che adesso ti faccio vedere io cos'è lo yoga allora tu intanto qualcosa che coinvolge la fisicità il corpo no? e allora ecco che cosa succede nel corpo perché noi arriviamo a questo stato di trance e si sono inventati tutta quella teoria che oggi noi crediamo orientale ma non è orientale è occidentale perché è su base medica avete presente quella delle nadi no? delle correnti il prana la corrente energetica quello che si trova nella tradizione che loro hanno inventato e che è passata poi alla storia col nome di hatha yoga hatha che è dal sanscrito è fatta di due sillabe hatha il sole e la luna perché fa perno sulla sessualità e cioè l'idea è questa carina in sé anche se quasi quasi poco realizzabile come quella precedente della trance cioè l'idea è questa durante l'orgasmo sessuale noi andiamo in trance ed entriamo in contatto con l'infinito morale dacci che ti dacci dacci dentro più che puoi e si sono inventati anche la teoria della kundalini cioè questa energia sessuale primordiale che è la più potente energia dell'universo perché è l'energia della generazione della creazione immaginata come un serpente arrotolato alla base della colonna vertebrale liberato il quale attraverso una sessualità sfrenata sapete che il sesso è come il mangiare più lo fai più ce ne hai voglia meno lo fai meno ne hai voglia funziona così tutte le funzioni funzionano così perché non è vero come sostengono gli onanisti darwiniani che la funzione cresce l'organo perché se non avremo degli organi così no la funzione cresce se stessa facendo molto sesso io ho fatto delle esperienze sessuali all'interno del tantra sempre in india ed effettivamente finisci per diventare quasi invasato si raggiungono degli stati per cui veramente ti si libera un'energia che loro simbolizzano con questo con questo kundalini questa specie di serpe che si libera e questa energia che parte proprio dalla dall'organo sessuale viene su sale su attraverso altra invenzione il chakra no che è un'invenzione occidentale non esiste nella tradizione c'era nella tradizione cinese dei centri di energia di smestamento ma non sono quelli che noi oggi chiamiamo chakra con queste con queste raffigurazioni il loto tutte cose inventate da noi queste qua per cui questa energia che sale poi arriva su fino alla sushumma e lì si mette in contatto con l'universo è carina questa teoria ma teoria questo hatha yoga su base sessuale con questa mira da utilizzare che utilizzando l'orgasmo si può raggiungere la stessa trans e la stessa esperienza di contatto con l'universo e con l'infinito è stata poi utilizzata diciamo in in tono minore perché nessuno poi l'ha fatta sta cosa di usarlo caspa mai conosciuto io conosco tutti nel mondo quelli che mai conosciuto nessuno però diciamo che è stata utilizzata in tono minore per teorizzare il fatto che fondamentalmente il corpo il nostro corpo se viene usato in modo in modo sano con le energie facendo girare ben tutti gli ormoni eccetera eccetera noi stiamo meglio siamo più contenti in sostanza in realtà originariamente lo yoga quello descritto dal Patanjari non non contempla posizioni corporee particolari se voi leggete Van Lisbet che è uno dei massimi esperti dello Hatha yoga descrive addirittura 105 asana diverse nessuno l'ha mai fatto ci ho provato una volta sono stato quattro giorni che non riuscivo a camminare lo yoga originale non aveva posizione corporea perché aveva una sola posizione seduto dato che gli indiani o indi che dire si voglia e questo la dice lunga sulla loro intelligenza non hanno mai inventato due cose che io ritrovo estremamente utili una è il manico della scopa non so se siete mai stati in India scopano così hanno le scopie col manico così scopo tutti acciucati una fatica bestiale non ho mai inventato il manico della scopa voglio dire sarà una bellina e un'altra cosa che non ho mai inventato la sedia non esiste non esiste si siedono per terra ecco perché fanno i tappeti perché se non sporcano il culo si siedono per terra sul tappeto per cui la seduta gambe incrociate detta siddha asana non è niente particolare siediti punto stai seduto per cui se tu sei uno che sei così intelligente ad avere una sedia ti siedi sulla sedia non cambia niente di solo stare seduto stare comodo Patanjali dice la asana deve essere comoda che ti permetta di mantenere la posizione a lungo senza affaticarti è tutto lì cioè l'unica posizione nella yoga originale è stare seduti quindi questa e tutte queste invenzioni inglesi tutti questi piegamenti non c'entra niente niente seduto seduto e poi c'è tutta una serie comunque cominci a staccarti dai sensi allora cominci solo a pensare diventi pensiero poi usi dei mantra cioè ripeti sempre la stessa parola finché ad un certo punto questa parola si perde e tu rimani cioè in pratica arrivi al vuoto mentale quando sei nel vuoto mentale poiché stai praticando un'altra cosa terribile che è il pranayama il pranayama cioè la il rallentamento del respiro fanlisabed ha scritto un trattato così sul pranayama non fatelo perché vi portano alla neuro no alla neuro punto pronto soccorso e non so se riescono a salvarvi perché consiste nell'allentamento del respiro fino a avete presente i fachiri che si fanno seppellire e stanno una settimana sotto terra facendo una respirazione completa ogni quattro minuti io l'ho visto sono dei cretini fa solo quello però esercizio fisico rallenti il respiro finché diventa un filo fievole un'intera respirazione composta di quattro fasi inspirazione reciaca pausa ritenzione del respiro espirazione pausa kumbhaka in apnea questo ciclo quattro minuti cinque minuti cioè roba da guardate con 20 centesimi dipende dal supermercato il mio ad esempio sono dei ladri a Genova me ne prendono 40 per un sacchetto di nylon ve lo mettete in testa ci fate un nodo dopo due minuti voi entrate in iposia cerebrale vi fate tutte le esperienze di trance possibile vi dovete avere un infermiere lì vicino un medico possibilmente che vi fa subito una respirazione bocca a bocca se no ci lasciate la pelle però il processo è quello avete idea adesso dello sviluppo storico inizialmente nato per fare l'esperienza della trascendenza poi in epoca moderna diventato una sorta di ginnastica con la teorizzazione dei flussi riflussi chakra eccetera eccetera che dovrebbero portare lo stesso risultato dell'esperienza della trascendenza dell'universo dell'eterno utilizzando la via sessuale ma poi in effetti percorsa da nessuno così come era percorsa da pochissimi anche quella precedente detto tra parentesi no? e poi ultimamente addirittura è degenerata semplicemente in una ginnastica con qualche invenzione metafisica quella si è perduta quindi la tradizione la lettura di questo libro di Patangeli ci fa capire cos'è com'è veramente nato cos'era veramente interessante non per farlo perché non ve lo consiglio però avete un'idea di cosa veramente era la cosa interessante è questa che questo concetto di infinito che nessuno aveva perché nessuno aveva esperienza con questa esperienza è nato il concetto di infinito perché lì in una situazione in cui io prima di arrivare alla situazione in cui io non ho più coscienza di nulla se non di esistere io attraverso diverse fasi che sono descritte puntualmente da Patangeli una delle quali è la perdita della percezione dello spazio cioè io non percepisco più i corpi separati fra loro nello spazio quindi non percepisco più la distanza quindi non avendo più la percezione di spazio ho la percezione dell'infinito senza limiti vi rendete conto che io arrivo a questa esperienza che non per accrescimento di percezione ma per perdita di percezione per sottrazione di percezione non ho più la percezione dello spazio e quindi ho più la percezione dei limiti spaziali e quindi ho la percezione dell'infinito e così tante altre percezioni che perdo per la strada ad esempio perdo la percezione del tempo per cui la percezione di eternità e infine una cosa interessante con questo finisco una delle tante figure di stato mentale descritte da Patanjali è la perdita della percezione di sé come corpo cioè io non percepisco più il corpo quindi non ho più la percezione di un corpo nello spazio se la vogliamo dire della estensione spaziale ci siamo fin qua guardate come girano le parole i concetti nella storia dell'umanità e si perdono le origini e non si capisce da dove vengono questa percezione anzi questa mancanza di percezione del corpo e quindi di corpo materiale nello spazio io non riesco più a percepire il corpo non riesco più a percepire un corpo nello spazio si chiama in sanscrito nella tradizione yogica A che è un alfa privativa e posizione che è nima il tutto diventa anima il termine anima è un termine sanscrito usato nella tradizione yogica e citato da Patanjali che significa senza corpo allora uno ha detto ah ma allora io posso continuare a pensare a essere cosciente anche senza il corpo che è una cazzata che non sta né in cielo né in terra perché la consapevolezza e il pensiero è una funzione del cervello tu dai una marterata sul cervello e il pensiero se ne va a fanculo provare per credere però da lì è venuto il concetto di pura pura spirito un'altra parola che non si sa cosa cazzo vuol dire spirito cioè 40 gradi 60 gradi ci si arriva a capire ma per il resto no nessuno ha mai dato una definizione diciamo coscienza che è molto più concreta l'esperienza la coscienza è il pensiero senza il corpo ecco che cos'è l'anima senza il corpo staccata dal corpo muore il corpo e l'anima trasmigra ed ecco quindi che sono state inventate le teorie della trasmigrazione dell'anima e della reincarnazione teorie che troviamo già presso gli egizi 2000 avanti Cristo e presso i tibetani 1000 avanti Cristo che vengono da questa descrizione della tradizione yogica che risale all'8000 avanti Cristo se no dove la prendono pensate popolo pensate io non voglio dire altro è chiaro? quindi infinito nito anima etter vengono tutte da questa esperienza esperienza ma un'esperienza in uno stato alterato di coscienza cioè via di testa su queste cose su queste cose e le religioni ci sono andate dentro alla grande sono state costruite le chiese poteri enormi ricchezze enormi guerre ancora adesso sempre sempre per soldi però ufficialmente pensate che si ammazzano fra sciiti e sunniti come se ci ammazzassimo fra noi e protestanti l'abbiamo fatto per secoli adesso grazie al cielo non lo facciamo la continuano chiaro vi ho un po' distrutto ma d'altra parte non è che potete sempre tenervi delle idee sbagliate in testa va bene andiamo grazie